Allora andiamo adesso a vedere alcuni problemi che riguardano decadimenti di particelle oppure la formazione di particelle dall'urto di particelle. Questo è il caso più semplice e quindi cominciamo proprio da questo. Qui abbiamo due particelle di massa m1 e m2, m1 di massa 100 mv su c quadro e m2 di massa 50 mv su c quadro che si muovono rispettivamente con velocità v1 uguale 0,8c e l'altra v2 con velocità 0,9c però verso la sinistra e quindi negativa. Nell'urto si forma un'unica particella m che si muoverà con una certa velocità v. Dobbiamo determinare sia la massa della particella che si forma sia la sua velocità. La massa m non sarà la somma semplice di m1 più m2 perché in realtà parte dell'energia che possiedono m1 e m2 sotto forma di energia cinetica si materializza in massa in m. Allora, come tutti gli urti dobbiamo imporre la conservazione della quantità di moto tra la situazione iniziale che è questa e quella finale che è questa qua. Inoltre, nei processi subatomici possiamo in generale imporre anche la conservazione dell'energia se sappiamo che non si sono formate altre particelle come ad esempio fotoni. Allora, quindi andiamo a scrivere la conservazione della quantità di moto quindi avremo nel nostro caso m1 v1 gamma 1 che è la quantità di moto della prima particella. dobbiamo sommarci la quantità di moto della seconda particella che però è negativa quindi scriviamo m2 v2 gamma 2 e infine la quantità di moto finale che sarà mv gamma. Scriviamo poi la conservazione dell'energia totale quindi l'energia totale di m1 è m1 gamma 1 c quadro poi avremo più m2 gamma 2 c alla seconda e questo sarà uguale a m gamma c al quadrato. Notiamo che essendo questa un'equazione, quest'ultimo, i fattori c quadro che sono presenti in tutti gli addendi si possono semplificare. Andiamo a sostituire i valori quindi abbiamo 100 sarebbero mv su c quadro non ci portiamo dietro in questo momento un'unità di misura v1 abbiamo detto è 0,8 c per 1,67 che è gamma 1 che avevamo già indicato meno 50 per 0,9 c per 2,29 che è il gamma relativo a 0,9 c e tutto questo sarà uguale a m gamma v per quanto riguarda l'energia abbiamo 100 per sempre mv su c quadro per 1,67 più 50 per 2,29 uguale m per gamma quindi dalla prima equazione otteniamo che m gamma v è uguale a 133,3 meno 103 e viceversa m per gamma è dato da 167 più 50 per 2,29 che sono 114,5 quindi in totale abbiamo 281,5 e qua invece abbiamo 30,3 e qui manca una delle c c'è una c qui e una c qui e qui abbiamo c allora adesso notiamo una cosa che ovviamente se io faccio qua il rapporto m gamma v diviso m gamma cioè questo diviso questo questo sarà quello sopra vale 30,3 c quello sotto vale 281,5 e il risultato di questa operazione ci dà semplicemente direttamente la velocità quindi la velocità risulterà essere di 30,3 c diviso 281,5 viene 0,18 c a cui corrisponde un gamma il cui valore è 1 diviso la radice quadrata di 1,0,108 al quadrato e quindi viene 1,0066 questo è il valore del nostro gamma a questo punto a questo punto usiamo il fatto che m per gamma questo intanto abbiamo trovato la velocità m per gamma vale 281,5 queste sono realtà mev su c quadro e quindi abbiamo che m è uguale 281,5 diviso gamma quindi diviso 1,006 mev su c alla seconda quindi dobbiamo fare questo calcolo 2,5 e sono praticamente 280 mev su c alla seconda e quindi abbiamo anche ottenuto la massa di questa particella ok questo è un problema abbastanza semplice di quindi formazione di una particella dallo scontro se volete in un certo senso anelastico ma in realtà abbiamo visto che bisogna imporre anche la conservazione di energie di due particelle relativistiche andiamo a esaminare invece la situazione opposta abbiamo una particella m di massa 280 mev su c quadro che ricade nel riferimento in cui è ferma in due quindi la particella in questo sistema di riferimento m è ferma e ricade in due particelle una di massa 160 e l'altra di massa 80 mev su c quadro dobbiamo calcolare le velocità v1 e v2 delle due particelle che si formano in questo decadimento nel riferimento in cui m è ferma quindi la situazione è quella che vedete qui rappresentata abbiamo inizialmente questa particella che si muove con che è ferma e da luogo la formazione di queste due particelle che rappresentano lo stato finale anche qui quello che dobbiamo fare è imporre la conservazione della quantità di moto e dell'energia meccanica questo decadimento è sempre un processo di urto anche se al contrario quindi cominciamo imporrendo la conservazione della quantità di moto la quantità di moto iniziale è zero perché nel sistema di riferimento in cui siamo la velocità della particella è nulla quindi avremo zero che è la quantità di moto di questa parte qua è uguale a che cosa? la quantità di moto di m1 che in realtà è meno m1 gamma 1 v1 più m2 gamma 2 v2 la seconda particella si muove verso destra nel disegno che abbiamo fatto e quindi la quantità di moto è positiva dall'altra parte abbiamo la conservazione dell'energia l'energia meccanica totale della particella m grande è semplicemente mc quadro in quanto essendo ferma gamma vale 1 quindi in realtà l'energia totale coincide con la sua energia di massa riposo per quanto riguarda invece le altre particelle dovremo fare m1 gamma 1 c quadro più m2 gamma 2 c quadro anche qui questi termini c quadro li possiamo semplificare ok quindi la prima ci dà semplicemente che m1 v1 gamma 1 v1 è uguale m2 gamma 2 v2 mentre qua abbiamo che m1 gamma 1 più m2 gamma 2 è uguale m grande allora andiamo anche a sostituire i valori ma per rendere i calcoli più semplici dividiamo tutto quanto per la massa più piccola che è m2 m1 diviso m2 fa semplicemente 2 mentre m grande diviso m2 cioè 280 diviso 80 fa 3,5 quindi noi dividiamo per m2 per m2 per m2 per m2 e per m2 in questa maniera i calcoli si semplifichano un po' quindi avremo 2 gamma 1 v1 è uguale gamma 2 v2 qua invece avremo 2 gamma 1 più gamma 2 uguale 3,5 allora se vogliamo semplificarci un po' la vita ricordiamo che gamma v fa nient'altro che gamma quadro meno 1 per c ci conviene usare questa formula nella prima equazione in entrambi lati e quindi avremo che 2 radice quadrata di gamma 1 al quadrato meno 1 per c è uguale radice quadrata di gamma 2 al quadrato meno 1 per c anche in questo caso c e c lo possiamo semplificare e poi qui abbiamo gamma 2 è uguale 3,5 meno 2 gamma 1 per prima cosa eliminiamo la radice quadrata presente nella prima equazione elevando tutto al quadrato e quindi otteniamo 4 gamma 1 al quadrato meno 4 perché anche il meno 1 che compare va moltiplicato per 2 al quadrato ed è uguale a gamma 2 al quadrato meno 1 ok a questo punto abbiamo che 4 gamma 1 al quadrato è uguale a gamma 2 al quadrato meno 4 va a sinistra diventa 1 più 4 meno 1 più 3 mentre gamma 2 è 3,5 meno 2 gamma 1 e basta quello che facciamo adesso sostituiamo questo qua nella prima equazione e cosa otteniamo 4 gamma 1 al quadrato è uguale a 3,5 meno 2 gamma 1 tutto al quadrato più 3 allora qui non dobbiamo fare approssimazioni viene 4 gamma 1 al quadrato è uguale 3,5 al quadrato che sono 12,25 più il quadrato di questo termine che è più 4 gamma 1 al quadrato e poi abbiamo il doppio prodotto che è meno 14 gamma 1 e infine più 3 e poi di sotto rimane l'equazione per gamma 2 allora notiamo che il termine gamma 1 al quadrato nella prima equazione si semplifica e rimane portando questo termine a sinistra 14 gamma 1 uguale 15,25 da cui possiamo ottenere che gamma 1 non è nient'altro che 15,25 diviso 14 e quindi fa 1,089 a cui corrisponde una velocità v1 di 0,396 c e a questo punto gamma 2 non sarà altro che 3,5 meno 2 per 1,089 che ci dà come valore 1,32 a cui corrisponde una velocità v2 pari a 0,653 c quindi questo è il modo in cui si svolge un problema di decadimento da parte di una particella ferma in due particelle che saranno ovviamente in movimento notiamo anche qui che la massa iniziale è maggiore della massa delle due particelle sommata perché in questo caso parte della massa della particella ferma iniziale si trasforma non in massa delle due particelle ma in energia cinetica cioè in velocità di queste particelle esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto nel caso precedente andiamo ora a complicarci leggermente la situazione ammettendo che consideriamo lo stesso problema di prima però in cui nel sistema di riferimento in cui la particella m grande si muove con velocità di 0,60 c ad esempio verso verso destra e poi il resto dei dati risulta essere esattamente quello della situazione precedente teoricamente si potrebbe risolvere questo problema imponendo la conservazione della quantità di moto e la conservazione dell'energia in questo sistema di riferimento in cui la particella si muove con velocità di 0,60 c in realtà per esempio non sappiamo i versi di v1 e v2 poi noi ci limiteremo a considerare comunque decadimenti in cui le particelle avvengono si muovono nella direzione della velocità iniziale della particella m ma in realtà il decadimento potrebbe essere che la particella si muove in questa direzione e in realtà si formano particelle anche in questa maniera e quindi non lo sappiamo noi ci limiteremo a formazione di particelle che si muovono comunque nella direzione in questo caso nella direzione orizzontale che possiamo chiamare x per risolvere questo problema non ci conviene ragionare però direttamente partendo dal riferimento in cui la particella m si muove ma ci conviene metterci nel sistema di riferimento in cui la particella m grande è ferma e poi ottenere la velocità nel sistema di riferimento iniziale quello in cui la particella m si muove con velocità 060c usando le leggi di composizione relativistica della velocità quindi risolviamo prima il problema in cui la particella m grande decade da ferma quindi noi ci mettiamo nel riferimento in cui m grande è ferma e decade in due particelle di massa m1 ed m2 di 160 e 80 mv su c4 rispettivamente che è esattamente il problema che abbiamo visto in precedenza e in questo sistema di riferimento le particelle vanno in direzioni opposte quindi sappiamo già il risultato perché viene esattamente quello che abbiamo visto prima cioè v1 uguale 0,396c e v2 0,653c e adesso dobbiamo però risolvere il problema di calcolare la velocità di queste due particelle nel sistema di riferimento in cui la particella iniziale si muove con velocità 0,06 quindi la situazione in realtà che abbiamo che noi abbiamo un sistema di riferimento che chiamiamo in cui la nostra particella m è ferma e in questo sistema di riferimento diciamo questa particella decade in due particelle ad esempio qui m1 questo m2 questo ha velocità ovviamente di 0,396c in modulo mentre v2 abbiamo visto essere 0,653c però noi vogliamo la velocità di queste due particelle rispetto a un sistema di riferimento o primo che è questo qua in cui la particella m grande si muove con velocità v uguale 0,660c come facciamo a questo punto per trovare questo valore poi dovremo anche notare che ovviamente questa non è l'unica possibilità di particelle che si muovono alla direzione orizzontale perché potrebbe essere m1 e m2 invertite cioè m1 andare verso destra e m2 andare verso sinistra quindi dovremo in realtà considerare due situazioni però cominciamo a risolvere questo problema qua allora in realtà dobbiamo calcolare la velocità rispetto al sistema o primo conoscendo le velocità delle particelle rispetto al sistema o quindi dobbiamo semplicemente andare a fare il sottogioco di composizione della velocità quindi dovremo usare per esempio per la particella 1 la formula u1 x primo la velocità della particella 1 nel sistema di riferimento di o primo sarà dato da u1 x meno v v v però dobbiamo fare attenzione con questo v che è dato da quella della particella lo metto qui in maiuscolo 1 meno 1 x v grande diviso c alla seconda perché cos'è questo v qua è in realtà la velocità di o primo rispetto a o notate che in realtà rispetto a o o primo va verso sinistra quindi in realtà v che compare nella formula della competizione velocità è meno v e quindi è meno 0,60 c per quanto riguarda 1 1 x la particella si muove verso sinistra e quindi la sua velocità è meno 0,396 c la stessa cosa dovremmo fare per u2 x primo che sarà u2 x meno v fratto 1 meno u2 x v diviso c alla seconda dove u2 x la velocità della particella 2 quindi questa è positiva perché va verso destra quindi è proprio più 0,653 c quindi facendo i calcoli abbiamo che u1 x primo è uguale a meno 0,396 c meno meno 0,6 fa più 0,60 c fratto 1 meno meno 0,396 c meno 0,60 c diviso c quadro questi c quadri si semplificano e quindi rimane facendo tutti i calcoli che viene 0,268 c il fatto che è positiva vuol dire in realtà che malgrado che nel sistema di riferimento o la particella va verso sinistra nel primo sta andando verso verso destra alla stessa maniera possiamo fare il calcolo per u2 x primo che sarà in questo caso 0,653 c più 0,60 c perché è meno meno 60 c diviso 1 meno 0,653 c per meno 0,60 c diviso c quadro questo si semplificano rimane quindi 1,253 c diviso 1,392 e quindi abbiamo 0,900 c e abbiamo calcolato la velocità delle nostre particelle in questo sistema di riferimento ma come dicevamo potremo avere una situazione invertita rispetto a quello che abbiamo già visto nel senso che qui abbiamo m e in questo caso v2 m2 che va da questa parte con la sua velocità v2 e m1 che va da questa parte con velocità v1 ricordiamo questo qui è 0,653 c e questo è 0, abbiamo detto 3,396 c cos'è che cambia questo qui lo vedete il sistema riferimento o e vogliamo tutto rispetto a o primo sapendo che questa particella come abbiamo detto si muove con velocità v di 0,6 c anche qui avremo che le formule da utilizzare saranno u1x uguale primo uguale u1x meno v fratto 1 meno u1x v fratto c alla seconda allora però in questo caso v come al solito è la velocità di o primo rispetto ad o e quindi è meno 0,6 c come nel caso precedente quanto vale u1x in questo caso vale più 0,396 c perché va 1 verso destra mentre u2x vale meno 0,653 c allora facendo in questo caso il calcolo in questa maniera quindi abbiamo 0,396 c più 0,6 c diviso 1 meno 0,396 c per meno 0,6 c diviso c quadro questi si semplificano e il risultato viene 0,805 c positiva quindi ovviamente anche in o primo la particella m1 che è questa va verso destra per quanto riguarda ux 2x primo dovevo fare u2x meno v fratto 1 meno u2x v fratto c alla seconda quindi viene meno in questo caso 0,653 c più 0,6 c fratto 1 1 meno meno 0,653 c meno 0,6 c diviso c alla seconda allora in questo caso il risultato è meno 0,053 c diviso 0,6 0,82 e quindi abbiamo meno 0,087 c il fatto che la velocità sia negativa vuol dire semplicemente che in questo sistema di riferimento la particella m2 comunque si muove verso sinistra come succedeva anche nel sistema di riferimento o ok andiamo adesso a vedere un ulteriore problema che è molto simile al precedente l'unica cosa che cambia abbiamo sempre una massa m di 60 mv su c quadro che decade in una particella di massa m1 uguale a 50 mv su c quadro in un fotone dobbiamo calcolare la velocità v1 della particella m1 e la frequenza del fotone emesso nel riferimento in cui la particella m è ferma ovviamente qui non si tratta di calcolare la velocità del fotone perché in qualsiasi sistema di riferimento sappiamo che il fotone va alla stessa velocità c ma ciò che cambia in realtà in questo caso tra i vari fotoni che si differenzia e non è la velocità ma la frequenza quindi l'energia e quindi la lunghezza la lunghezza d'onda anche qui faremo riferimento alla situazione vabbè qui in cui la particella m decade in due direzioni diciamo queste due particelle decadono in direzioni che sono nella direzione x per semplicità perché le situazioni potrebbero essere molto più complesse la coppia di particella e di particella può essere messa in tutte le direzioni anche se sono ovviamente opposte cioè potrebbe essere anche che la nostra particella è qui il fotone viene messo in questa direzione e la particella vada in quest'altra direzione allora quindi noi ci limiteremo a considerare questa situazione qua cosa dobbiamo fare al solito dobbiamo imporre la conservazione della quantità di moto e la conservazione dell'energia totale allora per quanto riguarda la conservazione della quantità di moto abbiamo che la quantità di moto iniziale è 0 mentre la quantità di moto della particella m1 sarà meno m1 gamma 1 v1 meno perché va verso sinistra nel nostro disegno più la quantità di moto del fotone che calcoliamo come l'energia del fotone diviso c e per quanto riguarda invece l'energia abbiamo mc quadro anche qui senza il gamma perché qui in questo sistema di fermento la particella è ferma che sarà uguale m1 gamma 1 c quadro più l'energia del fotone l'energia del fotone che è semplicemente h per f quindi legata alla frequenza riscriviamo il primo sistema viene semplicemente m1 gamma 1 v1 uguale l'energia del fotone fatto c e quindi moltiplicando per c viene m1 gamma 1 v1 c uguale e f mentre qui sotto possiamo dividere per c quadro anziché possiamo lasciare c lo possiamo lasciare qua sotto fondamentalmente allora cosa otteniamo in questo caso dice m uguale m1 gamma 1 più l'energia del fotone fatto c quadro ok questo termine qua lo possiamo scrivere come m1 radice di gamma 1 al quadrato meno 1 c è uguale e del fotone diviso c da cui abbiamo m1 radice di gamma 1 al quadrato meno 1 uguale dividendo tutto per c e del fotone diviso c alla seconda che va al sistema con la seconda relazione che possiamo riscrivere questo è uguale a m meno questo termine quindi qua quindi abbiamo e f diviso c alla seconda uguale m meno m1 gamma 1 ok adesso sostituiamo i valori quindi abbiamo 50 sarebbe mv su c quadro ma non importa gamma 1 al quadrato meno 1 uguale e f fratto c quadro ma questo e f uguale c quadro possiamo sostituire questo uguale m meno anzi se sarebbe 60 che è m grande meno 50 gamma 1 siamo a posto mentre e del fotone fratto c alla seconda rimane così come abbiamo scritto allora la prima questione è togliere via la radice quadrata quindi facciamo il quadrato sia di questo termine che di questo termine qua quindi viene 2500 gamma 1 al quadrato meno 1 è uguale a quanto abbiamo 3600 più 2500 gamma 1 al quadrato poi c'è il doppio prodotto tra 60 e 50 gamma 1 che fa meno 6000 gamma 1 questo qua la lasciamo così com'è quindi otteniamo 2500 gamma 1 al quadrato meno 2500 è uguale 3600 più 2500 gamma 1 al quadrato meno meno 6000 gamma 1 notiamo che i termini in gamma 1 al quadrato si semplificano portiamo questo termine di là e questo termine da quest'altra parte quindi otteniamo 6000 gamma 1 uguale 3600 più 2500 che sono 7100 da cui gamma 1 è 7100 diviso 600 e quindi fa 1 1183 a cui corrisponde una velocità v1 di 0 535 c a questo punto possiamo calcolarci facilmente l'energia del fotone ad esempio usando questa relazione qua potrebbe oppure anche l'altra quello che volete per esempio abbiamo semplicemente che l'energia del fotone è uguale m1 gamma per radice di gamma 1 al quadrato meno 1 c quadro che era l'energia del fotone fatto c quadro che era m1 radice di gamma 1 al quadro meno 1 e quindi abbiamo m1 c quadro che non sono nient'altro che 50 mev su c quadro per c quadro quindi sono 50 mev per radice di 1 183 al quadrato meno 1 e quindi se andiamo a fare i conti vengono 31 virgola 6 mev questa è l'energia del fotone che è tradotto in joule quindi moltiplicato per 1 6 per 10 alla meno 13 joule che è un mev otteniamo 5 0 56 per 10 alla meno 12 joule questa è l'energia del fotone a questo punto ci dobbiamo calcolare scusate ci dobbiamo calcolare allora se mi pare inseriamo una pagina ok inserisci dobbiamo semplicemente calcolare la frequenza e la frequenza viene dal fatto che l'energia del fotone è data dalla costante di planck per f dove h 6,66 2 6 per 10 alla meno 34 joule per secondo quindi questa è la costante di planck e quindi abbiamo che la frequenza è semplicemente l'energia del fotone diviso h quindi abbiamo 5,056 per 10 alla meno 12 joule fratto 6,626 per 10 alla meno 34 joule per secondo questo si semplificano quindi rimane uno su secondo che sono hertz e viene 7,63 per 10 alla 21 hertz e se vogliamo la lunghezza d'onda dobbiamo fare la velocità diviso f quindi 3 per 10 alla 8 metri al secondo diviso 7,63 per 10 alla 21 hertz che ci dà 3,93 per 10 alla meno 14 metri notate che questo qui è un valore molto molto più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda della luce visibile che è dell'ordine 10 alla meno 7 metri quindi 10 alla 7 volte più piccolo quindi in realtà siamo ai limiti tra raggi x e raggi gamma come valore di frequenza quindi il fotone che viene messo è molto energetico e molto pericoloso anche ok l'ultima situazione che possiamo andare a considerare è la solita in cui cioè considerare la situazione in cui abbiamo questo stesso problema però in cui nel sistema di riferimento in cui la particella iniziale si muove e il ragionamento è simile a quello delle particelle che abbiamo visto in precedenza cioè la situazione è questa la particella che si muove viene emessa la particella e un fotone in realtà sempre limitandoci al caso in cui le particelle che vengono emesse nel decadimento si muovono sull'asse orizzontale cioè parallelamente alla velocità della particella m e abbiamo questa possibilità qua in cui la m la particella va verso sinistra il fotone viene emesso verso destra oppure il contrario cioè il fotone viene emesso verso sinistra e la particella va verso destra come facciamo anche in questo caso a calcolare quello che dobbiamo calcolare cioè la velocità e la frequenza delle particelle nel riferimento in cui la particella iniziale si muove dobbiamo usare le trasformazioni di composizione velocità relativistiche quindi abbiamo la nostra particella la m che si trova nel sistema di riferimento o in cui è ferma che mette ad esempio la particella m1 verso verso sinistra con la velocità di abbiamo calcolato in precedenza perché il problema è esattamente come quello che abbiamo visto in precedenza di 0,535c mentre da questa parte viene messo il fotone che ha una frequenza che abbiamo visto essere di 7,63x10 alla 21 Hz allora per calcolare la velocità della particella dobbiamo usare le formule di composizione velocità quindi avremo che 1x prim è 1x meno v fratto 1 meno 1x v tutto diviso c quadro in questo caso 1x è meno 0,535c v che è la velocità di o' rispetto a o esattamente quello che è meno 0,6c e quindi otteniamo meno 0,535c più 0,6c diviso 1 meno 0,535c meno 0,6c diviso c quadro tutti questi c quadro se ne vanno e quindi rimane meno 0,065c diviso 0,679 e sono meno 0,096c quindi la particella comunque si muove verso sinistra anche il nuovo primo molto lentamente ma si muove verso sinistra cosa dobbiamo invece fare per calcolare la velocità e beh in questo caso abbiamo un effetto doppler in cui dobbiamo calcolare la velocità di questo fotone rispetto a questo sistema di riferimento ovviamente il fotone e o primo si stanno allontanando quindi dovremo usare la formula dell'effetto doppler nel caso di allontanamento e quindi dobbiamo usare la velocità tra i due sistemi di riferimento perché abbiamo la frequenza nel sistema O che è quella che abbiamo calcolato in precedenza a questo dobbiamo calcolarlo rispetto a questo sistema di riferimento che si muove verso sinistra quindi si sta allontanando da O quindi dovremo calcolare che F' è la radice di C meno V fratto C più non diamo proprio V piccolo nel senso è inutile considerare quello del sistema di riferimento abbiamo già considerato il fatto che si sta allontanando per F quindi abbiamo radice di C meno 0,6C fratto C più 0,6C per F questo fa la radice di 0,4C diviso 1,6C per F C e C si si semplificano viene la radice di un quarto per F perciò in questo caso è semplicemente un mezzo per F quindi otteniamo una frequenza che è esattamente la metà del caso precedente quindi otteniamo 3,965 per 10 alla 21 Hz a cui corrisponde ovviamente una lunghezza d'onda questo lambda primo che sarà se la frequenza è dimezzata la lunghezza d'onda è raddoppia e quindi otteniamo un valore di 7,86 per 10 alla meno 14 metri terminiamo a vedere cosa succede se l'emissione delle particelle è fatta in maniera opposta in questo caso cosa dobbiamo fare abbiamo quindi la situazione che o particella m qui è fermo e metti di qua la particella m1 con velocità v1 e qua emette il fotone in questo caso abbiamo primo ok allora per quanto usiamo le stesse forme di prima solo che dobbiamo cambiare i segni delle velocità quindi u1x primo è 1x meno v fratto 1 meno 1x v fratto c alla seconda però in questo caso 1x è 0,535c più 0,6c diviso 1 meno 0,535c per meno 0,6c diviso diviso alla seconda e si vanno via e quindi viene 0,1 1,135c diviso 1,321 e quindi questo viene 0,859c per quanto riguarda invece la la frequenza in questo caso il fotone va verso la sorgente sempre con velocità c e quindi la sua frequenza aumenta quindi f2 sarà c più v diviso c meno v per f facendo i calcoli viene 1,6c fratto 0,4c per f viene la dice di 4 e quindi 2f quindi in realtà in questo caso la frequenza è la doppia e quindi viene 1,526x10 alla 22 hertz mentre ovviamente la lunghezza d'onda diventa un mezzo quella del caso iniziale e quindi viene 1,96x10 alla meno 14 metri e in questa maniera siamo riusciti a calcolare la frequenza lunghezza d'onda del fotone che è messo nel decadimento di questa particella anche nel riferimento in cui la particella si muove ovviamente le cose si possono complicare ancora perché appunto noi abbiamo la particella che si muove in questa direzione ma che invece di decadere verso sinistra e destra decade ad esempio in questa in questa maniera in questo caso ovviamente bisogna per m1 usare le formule di composizione sia di ux u y mentre per quanto riguarda la frequenza di f le cose sono un po' più complicate perché essendoci anche un moto non solo di avvicinamento allontanamento ma un moto anche trasversale rispetto alla direzione orizzontale e quindi il sistema di riferimento bisogna usare forno un po' più complicate che però non l'abbiamo fatto quindi non faremo e con questo ci fermiamo di riferimento di riferimento di riferimento